Se volete aiutarmi a fare più Pink Slips e Contest nel mio canale acquistate i vostri crediti da FIFA Ultimate Team Coins Troverete il link qui sotto in descrizione Salve a tutti ragazzi, benvenuti e iscriviti tutti, bentornati su Gioveh di Spò Io sono Gioveh di Spò e questo è il video dell'estrazione del vincitore del contest Numero 1 della migliore battuta Avete commentato davvero in tanti, sono contentissimo Il contest era da E, era e sarà da 5k Perché a fine video inizia già un altro Quindi potete commentare qui sotto già con la vostra nuova battuta Battuta breve naturalmente E' stato davvero difficile cercare un vincitore tra queste tante belle battute simpatiche Alcune di più ed altre di meno Ma vabbè, ho fatto una top five E quindi iniziamo subito con il numero 5 Al quinto posto abbiamo Cricox Powa Con la sua battuta Amore, saliamo su No amore, ho le mie cose Tranquillo, non te le rubo Al numero 4 abbiamo Michele Ciruolo con Cosa fa Antonio Di Natale in un 4, 3, 2, 2, 1? Fa la stella cadena Ora entriamo nel vivo Della top five Della top three Al numero 3 Abbiamo Robby the Gamer Con In un negozio di camice Mi dà una camicia bianca di cotone e a manica lunga? La taglia? No, la porto via intera Al numero 2 Abbiamo Nicolas Bracco Con Che differenza c'è tra una moto e un water? Con la prima Ti siedi per correre Con la seconda Corri per sederti Ed ora Arriviamo al momento clou Il vincitore di questo primo contest I 5.000 crediti Se ne aggiudica Rolo di tamburi Iaconico 123 Con Questa battuta Dal fruttivendolo Il prof di scienza A Roma A Romolo Quando le vai i vichi 3 euro al chilo E li cachi E il giorno dopo E quindi Iaconico 123 Congratulazioni per la tua battuta Mi è piaciuto davvero tantissimo È stato difficile sceglierela Tra tutte quante Quindi Ti commenterò Con Al video Del contest Dicendo Di contattarmi Se stai vedendo questo video Contattami Tramite la pagina facebook E trovi il link qui sotto In descrizione E che dire Lasciate altre battute Sempre qui sotto Commentate in tantissimi Vediamo chi sarà il prossimo Fortunato vincitore Del contest Della migliore battuta Bene ragazzi I video si conclude Commentate con una migliore battuta Breve Lasciate un bello Pollicione in su Le regole sono sempre quelle Se vi è piaciuto questo video Se vi piace questo contest Lasciate un bello Pollicione in su Iscrivetevi al canale Sono Sergio Iscritti Qui in Giovespo Vi saluto e vi ringrazio Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao E bello a tutti